Coach Raiola, era importante non avere cali di tensione, mi sembra che la missione è stata compiuta al di là della vittoria che era da pronostico. Sì, abbiamo affrontato bene la partita, loro sono partiti comunque bene, noi piano piano abbiamo preso un buon margine di vantaggio, comunque sono contento di come i ragazzi sono stati in campo. A proposito dei ragazzi, la vigilia aveva dichiarato che è importante continuare il processo di integrazione dei nuovi, basta un dato per far capire che questo processo è già abbastanza avanti, nel primo quarto dei 24 punti totali, 19 sono stati firmati da Gai e Petrazzani. Loro hanno fatto una bella partita, naturalmente, essendo arrivati da poco gli piace anche far vedere le loro qualità, ma le abbiamo già viste sia nelle altre partite che comunque anche negli allenamenti perché si impegnano sempre tantissimo e ci tengono ad entrare il più possibile nei meccanismi della squadra. Sono contento per i ragazzi che hanno potuto avere dei minuti in più rispetto magari ad altre partite, quindi niente, era una partita comunque di preparazione per quello che sarà il rush finale, dove adesso abbiamo due trasferte fondamentali tra Fabiano e Senigaglia, dove dirà molto del piazzamento che riusciremo a conquistare nella regular season. La risposta forse è già scontata ed è, pensiamo, partita dopo partita, ma nel doppio impegno in terra marchigiana consecutivo qual è quello più insidioso? Il primo, cioè dobbiamo vincere la prima partita e poi eventualmente penseremo alla seconda. Una alla volta, nel senso che sono due partite molto molto difficili, lo vediamo anche dei risultati di oggi, si stanno giocando anche loro un piazzamento importante, e dobbiamo assolutamente cercare di fare una grande partita a Fabiano e portare i due punti a casa. Per chiudere, dove può e deve ancora crescere la sua squadra? Guarda, con la pausa della Coppa Italia, magari questa partita con Camp, in cui anche inconsciamente un pochino si poteva abbassare la tensione, adesso dobbiamo capire che veramente il rush finale del campionato, manca un mese ai play-off, cioè alla fine dell'ultima giornata ai play-off, quindi assolutamente dobbiamo stare super concentrati, grande disponibilità al lavoro, grande disponibilità nei confronti della squadra, perché adesso noi siamo diventati comunque una squadra molto lunga, quindi magari qualche minuto in meno per tutti, qualche tiro in meno per tutti, però abbiamo grandi potenzialità, quindi se questo lo affrontiamo con la testa giusta, non può far che bene al rendimento della squadra, adesso a cominciare da Fabiano, ripeto, è una partita d'alto livello, ci sarà un grandissimo pubblico, sarà già un assaggio di play-off, quindi sono contento di affrontare questa partita, perché dirà anche quanto siamo pronti o meno.